Perché non voglio che questa giornata, che questa mattinata sia una mattinata troppo politica, come faceva riferimento Mario, e quindi dovrò condizionare il mio intervento, perché non voglio renderlo politico, perché altrimenti dovrei dire quanto in qualità di cittadino sono deluso di essere stato seduto e abbandonato dall'Uno 45 Stelle, quanto sono deluso di essere stato deriso dal PD con diversi decreti salva IVA prodotti proprio dai suoi governi, come sono deluso di essere ignorato totalmente dal governo di destra e quindi evito di addentrarmi questi temi. Certo è che non posso far meno di far notare come di certi temi legati a Taranto che non sono temi legati a DIVA, sono temi legati a Taranto. Questi temi debbano necessariamente passare dalle pagine di cronaca dello spettacolo, per esempio, e non debbano passare dalle pagine di cronaca e basta.